Posso rivederti già stasera ma tu pensi sempre a male adesso, ancora il solito cesso Pronto? E pronto senta lei ha messo in vendita un casco per caso, non crede Pronto? Pronto mi sente? Sì Sentami che devo sentire lei ha messo in vendita un casco perché sarei interessato ad iniziare le trattative per acquistarlo, mi interessa Sì, un casco per bambino però Sì, no, beh le dico la verità, io ho la testa piccola e per trovare questo casco ci ho messo molto tempo, sul sito Porta Portese infatti ho visto, sono tutti caschi per persone adulte Io diciamo, come si dice qui da noi, testa acciaccata, mezza gonfiata, quindi se lei mi può dare dettagli sul casco magari perché ci tengo molto ad ogni mese Mica si è graffiato che non vorrei No, guardi, il casco è praticamente nuovo come l'annuncio Sì L'avevo preso per il bambino Sì Però l'abbiamo usato uno o forse due volte Mica mi sa dire quanto è, uno o due volte è sicuro, mica tre perché non vorrei che lei mi dia informazioni, massimo due, quindi aspetta che segno massimo due perché lo dico anche al mio collega che mi ha indicato verso questo tipo di caschi Mica mi dice Ma lei la ha visto online? Sì, ho visto online e la foto è molto piccola quindi mi impedisce di leggere al meglio Non le fanno mettere Sì, 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 perché magari che c'è un costo in più, credo No, no, ah sì, la parte del ingrandimento Sì E ha provato a cliccarla perché si apre Aspetta che ce l'ho qui di fronte, ora prova a cliccarla Io l'ho cliccata e si apre Vediamo un attimo, aspetta signore controllo E infatti si è aperta Caspita, ma lei cosa fa? Ingegneria? Cosa fa? L'informatico? Beh sì, sì, tratto No, è veramente, guardi, è regalato praticamente Mi dispiace tenerlo lì Sì, 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 sì E senta, io ho una testa, ho una circonferenza di circa 30x20 Quindi se mi dici un po' le misure, non vorrei che lo mettessi Ho già indossato altri caschi A me piace molto andare in scooter a fare passeggiate Quindi ho avuto caschi che andavano un po', mi soffocavano un po' durante il viaggio A me piace viaggiare molto Sai, non so se lei ha una moto Comunque sai quando è bella giornata Ma io adesso ho capito 30x20 che intende? Allora, vediamo dalla punta del naso Andiamo sui 20 E la circonferenza totale poi sulle 30 intorno alla fronte Ho fatto fare queste quantità Intorno alla fronte? Sì E se attendi un attimo, oppure mi richiama? Ma no, posso aspettare anche lì, non è un problema Magari prendi un metro subito e lo misuri Esatto, esatto Va bene, va bene Sì 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 Pronto? Pronto? Pronto, sì Sì Guardi, in mezzo l'alto alla testa è il bambino Sì E praticamente sì, andrebbe bene Perché lui è a 40 Dovebbe andare bene Lei dove sta di zona? Allora Pronto? Non sento più Non sento più Ma non sento più È un'altra Condazione Sì Non sentoة più Non sento più ываем Non sento più Sì Non sento meno Sento più In mezzo Sì L'alto alla testa Ma non sento più E' che' E' che' mano E' che' che' è magari e pronto scusi era caduta la linea si infatti senta cosa diceva? sembra che vada bene perché io mi sono dato la circonferenza del bambino si e c'ha 40-45 ho capito e quindi andrebbe perfetto lei dice senta secondo me si poi Massimo dove sta lei? che zona sta? allora io sto in pratica sto su Tuscolana la sala zona Tuscolana la zona Tuscolana è pratico di Tuscola si io sto a Cinecittà Est Cinecittà Est mi pare ah si mio cognato di Cinecittà Est si ricordo e possiamo fare così per ora ne parlo perché io ho mio cugino che io lo chiamo collega sai i soliti nominioni ne parlo con lui perché è lui che mi indica tutti i caschi i vari attrezzi per la moto e semmai richiamo va bene la ringrazio per la disponibilità è stato gentilissimo è sicuro arrivederlo 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 ciao